È necessario promuovere una reale integrazione tra le politiche sanitarie e sociali della casa e del lavoro, moltiplicando le occasioni di confronto tra gli enti incaricati della gestione dei bisogni. È quanto emerge dalla ricerca su mutualità e fabbisogni sociosanitari dei residenti di alcune aree della città metropolitana di Torino e del Cuneese, presentata a Palazzo Lascaris. L'indagine, commissionata dalla società mutua Pinerolese, è stata realizzata dal Laboratorio per Corsi di Secondo Welfare, del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi.